Io mi chiamo Mario Pini, faccio parte del Consiglio Direttivo di Federmanager Toscana e mi occupo fra le altre cose anche di alternanza scuola-lavoro, in particolare io in questi due anni che sono coinvolto in questa iniziativa mi sono dedicato principalmente a temi come la comunicazione, la negoziazione e il pensiero laterale. Tutti i temi che io provengo da una formazione scientifica oltre che medaginiale mi hanno sempre molto interessato e ho cercato proprio di declinare nei confronti delle nuove leve perché uno degli aspetti interessantissimi dell'alternanza scuola-lavoro è proprio questa liaison generazionale, cioè di un gruppo di persone che ha fatto nella propria vita lavorativa un certo tipo di esperienza, anche di responsabilità, che comporta non solo le competenze tecniche ma anche quelle che vengono chiamate soft skill o competenze trasversali che è proprio l'argomento chiave, sono gli argomenti chiave che trattiamo nell'alternanza scuola-lavoro. Quindi vedere di trovare un modo così efficace a mio avviso perché i ragazzi mediamente sono estremamente interessati perché gli parliamo di argomenti che non vengono mai svolti nei programmi scolastici tradizionali ma che gli danno delle indicazioni e anche degli stimoli che gli possono servire nel futuro per sapersi relazionare nell'ambiente di lavoro ma non solo. Quindi quello che noi facciamo è una proposta che a mio avviso è ben confezionata anche se un certo gruppo di noi sta facendo questo tipo di attività da un po' di tempo e via via cerchiamo di migliorare noi stessi con le proposte che facciamo. Però non è un'imposizione, sono spunti dove cerchiamo di dare alle nuove generazioni che saranno spiegabilmente, non tutti ma una parte di loro saranno la classe dirigente della nazione nel prossimo futuro, di dargli degli spunti non solo tecnici ma comportamentali di riflessione per ottimizzare quello che è il rapporto interpersonale, la comunicazione, il lavorare in gruppo e devo dire che i ragazzi hanno una reazione estremamente positiva nella grande maggioranza dei casi. Quindi che dire, è uno scambio, cioè noi cerchiamo di trasferire a loro qualcosa, a loro giovani e i giovani ci danno quell'energia che ovviamente col passare degli anni tenderebbe un po' a fievolirsi e che prende nuova linfa vitale dal rapporto continuo e costante con questi ragazzi. Grazie. Grazie.